Gli antichi greci non possono certo essere definiti come un popolo amante della pace. Per loro era piuttosto un momento di interruzione della guerra e gli Ateniesi erano bellicosi come tutti gli altri greci. Gli Ateniesi sono destinati al predominio sui mari del Mediterraneo orientale. È questo il vero significato della vittoria sui persiani. Prima gli Ateniesi erano semplicemente a capo della flotta greca, mentre ora erano sulla strada per diventare una superpotenza. Gli Ateniesi fondarono la Lega di Delo, un'alleanza di polis greche per tenere i persiani sotto controllo. La Lega di Delo era di fatto sotto il controllo di Atene. La supremazia navale le diede anche il potere economico. Quale fu la causa scatenante del conflitto, il cosiddetto casus belli? Pericle voleva provocare una guerra contro Sparta e la sua Lega che rappresentavano un ostacolo all'espansione di Atene e alla sua politica imperialista. Era però necessario far ricadere su Sparta la colpa del conflitto. Pericle decise così di impedire a Megara, una polis del Peloponneso, le esportazioni dei propri prodotti in Attica e nei porti alleati. Gli Spartani, in reazione al divieto posto da Atene a Megara, decisero di invadere l'Attica.